È il giorno del ricordo, è il giorno della memoria delle commemorazioni. Il Parco della Memoria all'Aquila finalmente, dopo 14 anni, ha un luogo dove raccogliersi, dove ricordare. Proprio questo Parco della Memoria è al centro di tante iniziative nella notte tra il 5 e il 6 aprile della fiaccolata, ma anche di tante iniziative previste per domani. Il Governo nazionale all'Aquila per il 14esimo anniversario del sisma, la Premier Giorgia Meloni, il Presidente del Senato Ignazio Larussa, seconda carica dello Stato, in città per le commemorazioni che vedranno l'avvio con un momento al Parco della Memoria al quale parteciperà la Russa, nel quale verrà scoperta una stela con il fiore della memoria realizzata dall'Accademia delle Belle Arti. La Meloni parteciperà invece alla Santa Messa alle Anime Santi alle 18, il ricordo delle 309 vittime. Ci saranno anche diversi sottosegretari. La fiaccolata è il punto fermo delle commemorazioni annuali e vede la presenza anche di comitati di altri tragedi italiani nella notte tra il 5 e il 6 aprile. Avrà, come di consueto, il punto di partenza alle 21.30 al Tribunale. L'arrivo da quando esiste un luogo della memoria che è il Parco di Piazzale Paoli è previsto proprio lì, con l'accensione del bracere, quest'anno ad opera di una ricercatrice turca del Gansasso Science Institute, Kansu Sommets, come segno di vicinanza alle popolazioni colpite dal terremoto. Seguirà la lettura dei 309 nomi delle vittime. Altro appuntamento tradizionale è quello dei rintocchi, 309 come i nomi degli angeli volati via, dalla campana della chiesa del suffraggio alle 3.32. Il 6 aprile però sono diversi gli appuntamenti che animeranno la città per il ricordo e la memoria alle 8.45 dinanzi alla Casa dello Studente. Uno dei più importanti verranno dei posti dei fiori e ci sarà un ricordo particolare per Antonietta Centofanti, prematuramente scomparsa, anima del comitato parenti delle vittime della Casa dello Studente, lei che in tutti questi anni è sempre stata in prima linea affinché ci fosse giustizia per le vittime ma anche in memoria. Stesso discorso alla Guardia di Finanza alle 10.30, un momento con la deposizione di fiori anche al cimitero e poi alle 11.30 la fanfara della polizia di Stato all'auditorium del parco. Al parco della memoria si rinnova per il secondo anno l'iniziativa Memorie Futuro rivolta a tutta la città e agli studenti. Anche a una, la frazione più martoriata, ci sono varie iniziative. Il 6 aprile ad esempio ci sarà la presentazione del libro di Giustino Parisse su Papa Francesco. Il 6 aprile ovviamente è lutto cittadino come proclamato dal sindaco Biondi con un'ordinanza che prevede l'esposizione delle bandiere a mezz'asta, degli uffici pubblici e il divieto di attività ludiche e ricreative. Anche quest'anno il sindaco Biondi attraverso Lance ha rinnovato l'invito a cittadini e organizzazioni sociali, culturali e produttive a prendere parte alle iniziative e a esprimere la partecipazione al ricordo anche illuminando nella notte fra il 5 e 6 balconi e finestre.